ho appena finito le riprese del mio nuovo video bella raga in edizione limitata mille pezzi su amazon uscirà il 45 giri di andiamo a comandare tutto molto interessante con questa copertina super figa e il disco altrettanto super figo che è trasparente e rosso come lo volevo io stupendo se volete preordinarlo basta scorrere in su su questo video e vi collegherà al link per preordinarlo su amazon è veramente figo raga è veramente veramente figo raga tra l'altro mi ero dimenticato siamo quinto disco di platino per andiamo a comandare grazie mille di brutto e non ho parole davvero non chiedetevi perché sono vestito così lo scoprirete tra un po allora siamo venuti a conoscenza di un compleanno troppo tardi e allora abbiamo deciso di regalare una nostra amica del sedano